Buongiorno a tutti, Marco Dall'Acqua di Appindustria Portogruaro. Vi portiamo a nome nostro, dell'associazione, a nome mio personale, i migliori saluti per questa fiera di Sant'Andrea che sarà in chiave digitale. La fiera di Sant'Andrea da sempre rappresenta l'autunno in oltratto e rappresenta l'inizio delle feste anche natalizie. È una manifestazione sentita moltissimo nel nostro territorio che quest'anno avverrà in chiave digitale per cui prendiamo parte di questa iniziativa e godiamoci anche questa edizione.